Il team di Blue Italy si è aggiudicato alla tredicesima edizione di Imprese in Accademia, il percorso formativo realizzato dal gruppo Giovani Imprenditori e dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. L'evento, come è noto, fornisce agli studenti universitari gli strumenti utili nella conoscenza delle proprie potenzialità e competenze imprenditoriali. Ormai sono 13 anni che facciamo questo progetto e c'è un impatto veramente positivo sul territorio e su questi ragazzi perché abbiamo riscontrato che chi affronta questo percorso effettivamente ha un piccolo vantaggio competitivo rispetto a altri studenti che magari non hanno fatto. Imprese in Accademia, aggiunto ancora De Grandis, rispecchia pieno una delle missioni del gruppo Giovani Imprenditori, ossia creare un dialogo continuo tra i giovani, le università e le imprese, un percorso di grande valore anche per il territorio. In 13 anni di storia ha visto coinvolti 2700 studenti nei workshop iniziali di presentazione con focus sui temi sull'orientamento che svolgiamo nelle università, selezionati 252 corsisti, erogate 512 ore di formazione gratuita, attivati 85 stage per oltre 23.300 ore di stage nelle aziende del territorio e realizzati 106 project work su casi aziendali reali proposti da imprese del sistema Confindustria. Alla tredicesima edizione hanno potuto partecipare i studenti di tutti i dipartimenti dell'Università d'Annunzio di Chiedi Pescara, della LUIS e Guido Carli di Roma e per la prima volta quest'anno anche gli iscritti all'Università degli Studi di Teramo. Sì, oggi i giovani danno veramente una linfa nuova alle aziende, sono importantissimi soprattutto per quello che riguarda le due trasformazioni che stiamo vivendo, di cui si parla continuamente, trasformazione digitale e la sostenibilità e quindi loro sicuramente possono dare alle imprese il contributo necessario per affrontare queste due sfide. Ho deciso di partecipare a questa iniziativa